Allora, alternative al Lambrusco. Molti mi dicono, ah sì, Lambrusco. Allora, il mondo Lambrusco, ragazzi, è un mondo a sé. Il mondo Lambrusco è molto interessante, molto affascinante per certi versi, ma è un mondo a sé. Però, comunque sia, non c'è solo il Lambrusco, ma se ti piacciono i vini frizzanti, rossi, frizzanti, col tannino croccante, e un'alternativa è il Gutturnio. Il Gutturnio dei Colli Piacentini, Barbera e Croatina, è Luaggio, risolve. E forse, rispetto a tanti Lambrusco, perché ci sono tanti Lambrusco, ragazzi, che vi prendono per il culo. Con questi Lambruschi, molte volte, vi prendono per il culo, perché non sempre vi danno il Lambrusco fatto come deve essere fatto. E molte volte vi danno dei Lambrusco, mangi e bevi, pieni di frutto, pieni di frutti, insomma, pieni di... Questa è la sensazione, comunque, dei Lambrusco stucchevoli. Comunque sia, ci sono dei Lambrusco anche molto buoni. Forse ve ne parlerò, se mi va. Comunque sia, Gutturnio, questo è il 2022 dell'azienda Il Poggiarello, piacevolissimo. Barbera e Croatina, chiaramente, nulla a che vedere con Lambrusco vero e proprio, però, per coloro i quali amano i vini rossi e frizzanti, può essere una buona alternativa. Ma non amabile, come puoi trovare in certi Lambruschi, che a volte borderline con la zona dolce, no? In questo caso, ci sono i Lambruschi secchi, i Lambruschi un po' più amabili, no? Però, comunque sia, questo è secco, piacevolissimo, fruttato, lavora sul frutto, sulle spezie. E poi, su tutta la dinamicità della freschezza acida. Bello, questo lo mettete anche coi bolliti, con anche quegli arrosti. Questo qui, soprattutto quegli arrosti, è Barbera e Croatina. Quindi questo ci sta, quegli arrosti, sgrasso il palato, mai noioso. Invece molti Lambruschi sono molto noiosi, l'ho dito proprio apposta. E io sono un amante dei Lambruschi, sono proprio un amante del vino, a proprio prescindere. Però, comunque sì, mi godo il vino per quello che è, anche proprio da un punto di vista territoriale. Però, comunque, sono dei Lambruschi che sono proprio raffazzonati in cantina, in un modo assurdo, per fargli piacere un po' a chi, ma chi se la deve, sta roba. Comunque sì, dopo sono gli stessi che poi finiscono, è il discorso del prosecco, poi finiscono a tre euro nei supermercati e dopo magari c'è un produttore che si fa un culo così, che si fa un ottimo Lambrusco, è costretto a vendolo a una cifra più alta e dice «E come faccio a spiegare sempre agli imbecilli che vanno a comprare il Lambrusco a tre euro?» Lasciateglielo dove è il Lambrusco a tre euro, quello non è il Lambrusco, quello è un'altra roba. Sì, è Lambrusco, ma il Lambrusco buono è un'altra roba. Comunque sia, può essere un'alternativa, il gutturnio frizzante di qualsiasi marca, dopo i vostri gusti non mi interessano al Lambrusco, sì, può essere un'alternativa. E questo ne è un esempio. Ciao ragazzi.